che cosa ricordiamo della notte tra drammatica del vero bombardamento su fuori quello dell'otto tra l'otto e il 9 settembre del 43 quando addirittura ci furono morti a fuori senti stavamo dormendo logicamente perché era notte sempre a San D'Antonio sentimmo dei rumori insomma già era cominciato a cadere qualche cosa e di fatti caddero molte bombe qua fuori dove sta dal Roxy Bar avanti hanno fatto le uniti e le hanno fatte le case allora erano tutti giardini consideriamo che qua era periferia perché qua erano tutti giardini case non c'è nero noi ci troviamo nei pressi dell'edificio scolastico Luca Balsofiore esattamente nel parco Piromalle quindi dopo via Matteo Verde questa era campagna tutta campagna no già era campagna da vicino da dove sta la tinaia di fronte quella pensione di fronte là già erano i giardini tutta pressa erano tutta terra e cominciarono a cadere delle bombe però andavano in questa terra e non esplodevano all'improvviso mio fratello grande si alzò sentendo quindi erano già caduti pure dietro Casapadalana negli orti dietro Casapadalana e non erano esplose allora mio fratello dice mamma mia stanno cadendo le bombe mentre io ero sempre la prima a saltare guardando dall'altra stanza mio fratello lo vedi saltare in aria sul balcone Francesco Vito era uscito fuori al balcone per rendersi conto e c'era stato in quel momento cadde uno spezzone incendiario all'angolo della via vecchia a Casemus Cardin si chiamava di fatti morirono la mamma e due bambini uno spezzone incendiario e cadde una bomba là vicino pure che crollò la casa e mio fratello con lo spostamento io lo vedi saltare in aria proprio e poi da lì noi stavamo sopra e da lì corremmo giù per metterci sotto non tenevamo niente una tettoia vicino alle porte delle stanze che stavano giù ci mettemmo tutti quanti là vicino e sempre a pregare logicamente le bombe continuavano a cadere ancora la maggior parte noi fumo fortunati nella sciagura fumo fortunati perché parecchio non esplosero se si esplodevano tutti quanti ci sarebbe stata veramente una strage e ci mettemmo lì e poi i parenti nostri dei preziosi che tengono la casa di fronte alla chiesa ora c'è Camillo che sarebbe il padrone allora c'erano i nonni la nonna era nipota mia nonna allora prese tutta la famiglia e venne dentro la casa nostra sia per stare in compagnia sia per ripararsi ma ripararsi da che cosa stavamo sotto ha detto nel venire in mezzo al cortile perché a noi c'era questo grande cortile tutti intorno e poi c'erano tutte queste case la casa era grandissima passando dal portone invoccarono il cortile arrivarono a questo punto dietro qua c'era la finestra dell'altare maggiore la finestra dietro all'altare maggiore cadde alle loro spalle in mezzo al nostro cortile ma fu proprio quando dici la grazia fu proprio per questioni di metri che non investì quella famiglia che stava venendo a ripararsi da noi e cadde questa finestra con i vetri in mezzo al cortile insomma tutto questo poi lasciamo la casa noi al fango tenevamo una stanza poi tenevamo la cantina tenevamo i palmenti tenevamo tutta la famiglia eravamo 20 persone ci riunimmo tutti quanti e ce ne andammo al fango e lì stiamo fin quando diciamo passò il pericolo stiamo un paio di mesi da sopra al fango qualche testimone racconta che l'8 settembre all'annuncio dell'armistizio a Forio ci fu una sorta di giubilo addirittura la sera la sera prima tutti corremmo al soccorso a ringraziare Gesù Cristo del soccorso mi ricordo come ieri perché ripeto io ero molto molto vispa Luisa stava sempre nelle retrovie io ero sempre la prima a correre per qualunque cosa non è che ero coraggio non ne ho mai avuto però il fatto di stare sempre in testa e mi ricordo in mezzo al pontone sempre che poi quella luna quella luna quella notte c'era una luna così quella notte che peggiorava la situazione perché gli aerei te li vedevi proprio addosso col chiarore della luna e quella sera eravamo andati i corsi tutti al soccorso per ringraziare il Signore che era finita la guerra e la notte purtroppo la notte purtroppo arrivarono le bombe ecco però ecco questo dettaglio di una notte chiara che rendeva anche visibile il territorio la luna quella che tengo negli occhi e nell'animo quella luna immensa che sembrava giorno in mezzo al pontone ecco alcuni io mi permetto di fare questa considerazione diciamo del tutto personale perché purtroppo mancano molti dati storici più precisi sull'evento bombardamento a Forio addirittura nei libri di storia non viene neanche riportato eppure io penso che Forio meriterebbe addirittura la medaglia d'oro al valore civile viste i tredici morti che ci sono stati e purtroppo ecco questa cosa non va mai avanti anche perché mancano altri riferimenti alcuni affermano che le bombe su Forio caddero per errore però io mi chiedo come sia possibile una cosa del genere allora quando un cielo così splendente con questa luna così forte rendeva visibile il territorio visibilissimo infatti il parroco capuano aveva la cupola la cupola che ci sta adesso quello zingo che sta sulla ci sta da allora dal 43 che il parroco aveva fatto venire una ditta da Napoli e aveva fatto cambiare lo zingo su quella cupola e lo zingo nuovo sotto i raggi sotto il terrore della luna brillava proprio luccicava e allora si disse che dato la forma pure della cupola dice con questo luccicchio che si vedeva dagli aerei come lo vedevamo noi da terra si vedevamo maggiormente dall'aereo dice l'avevano preso per un diciamo un serbatoio di carburante stiamo parlando della cupola di San Sebastiano e di fatti loro cercavano di centrare questa cupola per cui per questo caddero tutte le bombe da Via Vecchia negli orti che stanno vicino a Via Vecchia dietro Casa Patalano negli orti sempre sempre negli orti e ci capitò San Giovanni nel giro che fecero ci capitò San Giovanni dove esplose e ci furono i morti che poi se stavano dentro quelli nelle stanze si sarebbero salvati tutti per via che l'androne del portone era fatto a volta il figlio che era venuto la sera prima con la moglie che era militare era venuto mi pare dal viaggio di nozze una cosa di questa disse là sotto stiamo più sicuri e dalle stanze scesero e si misero sotto a quest'androne avvolta che io me lo ricordo questa via vecchia a San Giovanni all'angolo tra via vecchia e San Giovanni siamo proprio per chi non lo sapesse proprio nel cuore di Forio solo Melina una sola una figlia si salvo con la schiena rotta che è stata tanto tempo tanti anni è stata incessata l'indomani di questa tragedia che cosa ricorda la maestra il parroco le reazioni sappiamo che molte vittime cioè le vittime furono la prima cosa ci andammo a interessare di tutti gli altri parenti che tenevamo gli zii i parenti nella via del cardinale vicino alla casa del cardinale abitava mia zia altri parenti cugini di papà con i quali ci tenevamo proprio strettamente abitavano là andammo a vedere insomma se tutti i parenti erano vivi poi noi bambini eravamo sempre bambini andammo fuori andandone là a vedere a San Giovanni che era successo ricordo sempre le spalliere dei letti erano arrivati qua giù vicino a chi lo negozi che fa angolo proprio tra San Giovanni e casa di Ma e Beltrano e là tutte le suppelletti ma soprattutto le spalliere dei letti erano arrivate tutte laggiù e intanto si scavava per per vedere se c'era qualcuno vivo e di fatti il figlio di quello che era arrivato la sera prima con la moglie diceva da sotto alle macerie dice tengo mia moglie morta in braccio fate presto tengo mia moglie morta in braccio fate presto però poi quando scavarono non lo so come fu ma morì anche lui furono forse anche diciamo i soccorsi diciamo troppo precipitosi troppo precipitosi qualcosa qualcosa è stato ci fu forse anche qualche diciamo errore per la fretta un poco perché lo sentivano dire tengo mia moglie morta in braccio un poco per far presto per vedere delle volte delle volte per far bene si fa male purtroppo si anche noi lo vediamo lo vediamo quando succedono anche oggi le tragedie come sono attenti e certosini anche i vigili del fuoco nel fare attenzione nel selezionare i materiali proprio per evitare di fare guai maggiori guai maggiori molto molto bello interessante e commovente anche questo racconto che arricchisce la nostra conoscenza di questa pagina drammatica della storia di Forio grazie a tutti grazie a tutti